Alla fine il matrimonio si è fatto, la Lega farà il suo ingresso nel governo siciliano e quanto emerge dal vertice di maggioranza di ieri, durato circa 5 ore, durante il quale la coalizione di centrodestra ha affrontato alcuni temi politici. Il carroccio avrà la delega ai beni culturali, rimasta nelle mani del presidente della regione Nello Musumeci dopo la morte di Sebastiano Tusa. Si tratta della prima volta nella storia politica siciliana in cui un esponente leghista avrà un ruolo nella giunta regionale isolana, ma non c'è da stupirsi perché i continui incontri tra il senatore e segretario siciliano della Lega Stefano Candiani e il presidente Musumeci avevano prospettato questa ipotesi, specie alla luce della costituzione di un gruppo della Lega Lars. In un primo momento il carroccio aveva chiesto l'agricoltura con Orazio Ragusa in pole position, ma poi si è dovuto accontentare anche alla luce della perdita di un deputato dell'assessorato vacante da marzo 2019, ossia dalla tragica scomparsa dell'assessore Tusa nel disastro aereo in Etiopia. Per il resto nessun cambio in giunta al momento. È stata un'intensa giornata di lavoro, ha dichiarato alla fine il presidente Musumeci, conclusasi con la disponibilità della Lega, che mi è stata vicina fin dalla mia candidatura, ad entrare in giunta su mia richiesta. La Lega è orgogliosa di entrare nella giunta Musumeci, dice il leader Matteo Salvini. La Sicilia, con la sua storia e la sua cultura, è un vanto per l'Italia e avremo l'onore di gestire le soprintendenze provinciali e quella del mare, i 14 parchi archeologici, i musei regionali e le straordinarie biblioteche. I primi obiettivi, dice Salvini, saranno basta burocrazia e più lavoro.